Ciò arriva dopo che il duca di Sussex, ha fatto una serie di affermazioni esplosive su suo fratello e altri membri della famiglia reale nel suo libro di memorie. Sper. Il principe William non capisce perché il suo fratello separato, il principe Harry, stia chiedendo scuse alla famiglia reale, ha affermato un esperto reale. Il duca e la duchessa di Sussex, hanno avuto contatti minimi con la famiglia reale, da quando hanno lasciato i loro doveri reali nel 2020. Ferri ha anche fatto una sorprendente richiesta di scuse da parte dei membri senior dello studio, nonostante abbia discusso pubblicamente di questioni familiari in varie interviste di alto profilo, e nei suoi vari progetti mediatici. Tuttavia, secondo lo storico reale Garrett Russell, William è perplesso sul motivo per cui qualcuno in famiglia dovrebbe scusarsi con la coppia. Si ritiene che uno dei motivi del rapporto teso tra i Sussex e la famiglia reale, sia dovuto alle loro varie apparizioni sui media, che cercavano di svelare i meccanismi interni della vita reale. Si ritiene che anche il libro di memorie di Ferri spera abbia approfondito la spaccatura tra i due fratelli, e abbia lasciato William perplesso sul motivo per cui la famiglia avrebbe dovuto scusarsi con il duca. Russell ha detto. Come suggerisce il titolo del libro di memorie, il principe Ferri si è sempre sentito come una riserva, quindi fondamentalmente, è solo la fortuna dell'albero genealogico. Fa commenti piuttosto criptici come sanno quello che hanno fatto. Il che, visto che è disposto a specificare nei dettagli, tutto il resto è strano. Quindi non penso che nessuno sia sicuro al 100% di cosa si tratti. Anche secondo lo stesso principe Ferri, il principe William non sa di cosa si tratta. C'è un pezzo nel libro di memorie in cui il principe Ferri dice che William stava chiedendo. Che cos'è? Qual è il problema? Ha detto Russell a GB News. Ha aggiunto. E il principe Ferri si disse. Come poteva non saperlo? Quindi penso che forse ci sono molte cose che il principe Ferri si porta dietro. Ferri e Megan hanno avuto un rapporto teso. Se non quasi inesistente con il resto della famiglia. In seguito alle loro rivelazioni bomba degli ultimi anni. A gennaio, Ferri ha pubblicato il suo libro di memoria rivelatore. In cui accusava suo fratello di un alterco fisico legato a Megan.